Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera reta autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio, in direzione Bologna. Sulla FIPILI per lavori, rampa di accesso chiusa in entrata a Livorno Porto, in direzione Firenze. Sulla Statale 1 Aurelia, svincolo chiuso per lavori a Gavorrano, in direzione Sud. Per lo stesso motivo è chiuso anche lo svincolo di Cecina Nord, in entrambe le direzioni. Uscita chiusa per lavori a Rosignano Marittimo, in direzione Sud. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i cantieri della tramvia, fino al 30 maggio, lavori di completamento della fognatura e delle sistemazioni urbanistiche in piazza dell'Unità Italiana. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!